Pieti e l'Abruzzo Citeriore nel 700, Verdone editore e l'ultima fatica letteraria dello studioso Aurelio Bigi che con un lavoro certosino durato circa due anni in 328 pagine, grazie a documenti originali dell'epoca, presenta un quadro sulla popolazione, le attività svolte dai singoli, le proprietà immobiliari, la composizione delle famiglie, la differenza di età tra i coniugi e molti altri aspetti sociali ed economici di diversi paesi e città dell'Abruzzo Citeriore con un focus speciale su Chieti. Emerge una Chieti formata da 1838 fuochi, per ogni fuoco è da indendersi un nucleo familiare. 1386 abitavano dentro il centro abitato, divisi nelle quattro parrocchie. 452 fuochi invece fuori le mura, quindi prevalentemente dediti all'agricoltura, per un totale di 9.395 abitanti, questa era la Chieti dell'epoca. E vi erano ben 114 tra nobili e benestanti, allora ben 27 erano le famiglie nobili della città. 266 erano le persone addette alla Chiesa, intendendo per tale sia i sacerdoti che i religiosi, le religiose. Pochissimi gli studenti, appena 49, oltre quelli del seminario diocesano che raggiungevano quota 100. I lavoratori erano prevalentemente addetti a lavoratori del campo, mille persone. 583 gli artigiani, li ho suddivisi tipo per tipo, e ve ne sono veramente tantissimi tipi di artigiani, l'artigianato allora era veramente fiorente. 145 i commercianti, ecco una sorpresa nel vedere non solo dei piccoli negozietti, ma anche degli empori in cui era roba che veniva anche dall'estero. E 556 erano i domestici o coloro addetti alle scuderie. E il discorso viene allargato a tutto l'Abruzzo Citeriore, per cui ho esaminato comune e comune dell'Abruzzo Citeriore sul numero della popolazione, sulle maggiori professioni e su tutti quegli aspetti che ho trattato anche per la città di Chieti.